ciao siamo a regione all'enduro dopo almeno quattro anni che ce lo siamo scagati di brutto perché sono delle caratteristiche ma va bene adesso andiamo a faticare un po nella fettuccia facciamo due o tre cadute due facciate e via tutti a casa contenti e via ci vediamo on board ciao ma si dai avrei preferito un po di pioggia e sinceramente la presidenza so no 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 sono caduto alla terza curva stronchi sono andato velocissimo 4.21 4.21 guarda che sei 4.21 purta 100 qualcosa 77 non sono passato uno ciao baby ci vediamo subito si ciao viva ciao 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 Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. 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 il fiume, attenzione, si porta avanti nel trasferimento ho la moto che è leggermente morta di motore è già un po' che attento di ripare il pistone ma da ora ce la teniamo così, va bene lo stesso è importante divertirsi, non piegare facciate ma bello stesso non piegare facciate non piegare facciate Ok 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 Here Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 ti urlo. se ti vedo. urlo. va bene. non spaventarti. se urlo. ok. perfetto. grazie mille. 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 c'è qualche problema con la frizione c'è qualche problema 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 c'è qualche problema